Il GIOVACO Il GIOVACO Il GIOVACO Vi voglio presentare Don Giuseppe e come sapete tra qualche giorno mi sostituirà. Vi dovete stare vicini, come lui starà vicino a voi, mi raccomando. Certo, a questo giorno hanno mandato in danno posto con me, chiesto. Hanno interrato rifiuti tossici di tutti i divi per questo scempio che la nostra gente sta morendo prima del tempo. Ma che ho vedevi, chiesto? In questo posto purtroppo abbiamo delle priorità, lo capite sì o no? Mi hanno detto che è più di un anno che il campetto è chiuso, i bambini dovevano ancora aspettare. La prossima volta non pigliate iniziati, finita a due. Tu sai che qua la situazione è complicata, quindi mantieni l'equilibrio. Io sono qua per aiutare la bambina, aiutare anche te, ma devi fidare di me. Quando si affrontano certi temi bisogna essere certo delle scelte che si fanno. Sicuramente, sicuramente, sicuramente! Ma quando siete venuti in tuo quartiere mio, avete creato solo un biglietto a randello. Ma perché non fate un indagno? Non alzi la voce, provati quello che dici, non ce ne sono. Ritrova la moderazione, l'equilibrio, solo che puoi farlo. Dovete fare solo quello che dovete fare. Fate sacerdote e basta. Dani, ma se vi manco in chiesa a pregare, sta agendo poco fine fa. Grazie. 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 Grazie.